Allora ragazzi comincia con questa altra campagna di Battlefield 5 Trai, tira il lor Che diavolo è Battiti lungo la costa meridiana della Francia con la fantiria della Dimenticata operazione Che non è mai conosciuto Bene E lo Andiamo Spero vediamo armi decenti Provenza, Francia Autunno 1944 In fuori alla battaglia per la riconquista dell'Europa E' bello però perché ti fanno vedere Missioni, comunque campagne Che nessuno ha mai visto praticamente Comunque Nessuno conosce Cioè io questa non la conoscevo Perché in teoria ti fanno sempre fare le missioni Dell'Inghilterra Delle porte dell'Inghilterra America Capito? Quindi le altre solitamente non se le cagano Ruite per la futura Quattro Prazie Quattro Quattro La Falchioni Quattro 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 ero ma non erano le soli a combattere vorrei raccontare un'istoria che non conoscevi una lezioncina di francia non c'è idriso non c'è se lient la si 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 se Mi sembra che è sparito l'Iblusiona Polaci E quando tutto ha esoguito, il nostro capitano ambitioso e ambito ha deciso di portare volontari per s'emparare dei canoni anti-aeriani armati che lo cercano Spero ci abbiano reso il fucile e non ci mandino lì con la pala Ehi! Ehi! Il faut guardare il tuo calma Non giù un ero! Resto in vita, mio frate Lo che vi raccontare non sembrava in nessun libro di storia Potremmo non credo, ma non dimenticare che quello che è scritto non è sempre vero E che quello che è vero non è sempre scritto Chi si approccia? Chi arriverà? Chi non arriva? Chi non lo so? E voi si vedeva! Uuuuuh! Ehi! 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 Ma tu per la postazione Kilo? Nessuno di questi stronti possa aiutarli? Non fa! No, per l'altro volevo un'altra arma! Ma vabbè! Let's go! Comunque è vero! La storia è scritta dai vincitori! Ma è normale che non vedo nessuno praticamente Ma è un fucile? Cioè cos'è questo? Un mitra o un fucile? Che strano! Perché non l'ho mai visto ovviamente! Oh! L'ho preso! Praticamente mi devo avvicinare a queste partite così della storia Come se stessi giocando al singolo no? Quindi devo cercare di fare colpi precisi Eh! Devo mirare molto bene! Comunque ho giocato un pochettino il multigiocatore Eeeh! Devo dire che mi è piaciuto molto! Perché io me lo aspettavo Mi aspettavo che fosse Eeeh! Tipo con il... Vi ricordate che la prima parte stavo già impazzendo con questo perché C'era un rinculo allucinante ecco! Non è così! Cioè nel multigiocatore non l'ho trovato così esagerato Ero in culo! Quindi non l'ho... È risultato molto più godibile! Il problema comunque è che vengono sempre pochi proiettili a disposizione Sì perché fra poco gli dovrò sparare la pistola eh! Ma almeno mettetemi di quegli stronzi che cioè... Mi danno le munizioni! Ma no che questo insomma! Wuh! In testa! Let's go! Oh merda l'albero si è rotto! Che figato! Ok! Bisogna avanzare piano! Però bisogna avanzare! Andiamo dai dai dai! No perché se no muoio! Poi mi girano i coglioni! Mi vede a fare tutto in fretta! Tipo adesso! Mi aiuto! Fuga! Ci ho finito le granate! Aspetta con calma! Adoro ma quanti cazzo sono ancora? Amico perda! Sono un botto! Rispetto alle altre missioni dove ce ne ho tipo un paio per dire! Qua c'è un casino! Meglio! Vabbè l'avevo dato per la fortificata eh! Guarda qui! Oh no! Stiamo bustando! Che cazzo è? Che ti vuole sta roba? Non lo conosco! Distruggi i cannoli da campo! ShANZE 66! ShANZE! Oh mio dio! Che succede? Un'amunizione! Madonna sta facendo! Eh! Ma minchia! Finalmente! Questo qui ne tiene di munizioni! Va! 20 su 101! Madonna sì! Sì! Così! Porca loca! Faccio un girato qua! Adesso c'è anche altro! Mmm! C'è questa! Stuzzicante! Ma non vorrei! No! Questa era potente mi ricordo! Però mica! Questa qui tiene più colpi! No! Mi tengo questa dai! Mi tengo questa! Mi sto trovando bene! Non voglio fare stronzata! Perché poi magari prendo un'arma che non mi piace! Eh! Della fine! No! Minuscule! Fasso alla guerra! Cazzo! Un'altra fornì pronta a se fare ecraser! Ma io! Io mi ripeto tutto il tempo! Non! Non me! Io sono amato! Io sono amato! E Dio mi viendrà in aide! Esatto! Questo... Forse questo mi... Minchia! Guarda che spettacolo però! Porco judo! Come è che si metteva il binocolo? Mi sono dimenticato! No! No! Merdo! Trovo la granata! Porco il cane! Vaffanculo! Andiamo! Mi sono dimenticato il binocolo come si metteva! Per culo! Buttiamoci nell'azione! Stucca! Vecchia! Uh! Porca! Ok beccato! Madonna! Guarda qui i pilastri tipo per fare la protezione! Porca! Porca! Ok! Pian pianino ci facciamo stradina! Porca è locca! Qua se mi prendono di mira i... I carri! Cioè... Non i carri! I cannoni! E' un po' un problema! E' un po' un problema! Aspetta! Diti di provo a avanzare! Ok! Ok! Sentite le urla! Ah! Come avanziamo! Le urla di coraggio! Ok! Qua è libero! Faccio poi le lancio a fiamme! Ecco perché! No! Poi! Porca bocca! Minchia un altro! Un altro! Porca Giuda! Uno! Uno è andato! Ce ne erano due! Ma che diavolo quei si tengono? Che diavolo è l'altro qua? Quel cane! Ma la strisciamo nella merda! Cioè... Alla in fondo ce n'è uno, vero? No! Ah! Prese! Quick Scoop! Questo non ho scritto mica nei libri di storia! Eh! Che era di moda! Fare i cicchini! Fare Quick Scoop! Avanziamo! Fringuelli! Alla aspetta! Le posizioni sono una, due! Ma ne è che sto superando? Facco! Eccolo la! Madonna! Aspetta che l'ho trovata posizione! Qua va meglio! Ok! Sono una, due! Ma ce ne erano tre! Se non mi sbaglio! No! 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 Non arrivano altri! No! Uh! L'ho beccata lo stesso! Mica! Se ho preso un proiettile qui sono infulato! Questo canone! Il canone... Soderà delle vie! Di veri vie! È concreto! È reale! Siamo che abbiamo fatto qualcosa di bene! Aspetta Oh Jesus Via 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 Un bel e imponente sta battaglia Mi garba Si è una fottuta mitiliatrice Caga Partito Ok Manca uno sull'altra linea Dai 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 Voglio anche avanzare un po' Aspetta che qua Ebbè non l'ho preso Adesso si Andiamo fringuelli Toh pezzo di merda Occupa Ma dove cazzo è Quelli sono amici Oh merda Aiuto Sono infelociti sono Aspetta un attimo Oh merda Mirate di merda Aspetta che qua C'è una bella posizione Ok qua è libero Va un po' meno Aiuto I proiettili si fanno sentire se non li usi bene Ok un altro andato Un altro andato Facciamo due granate così a random Gesù Cristo No 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 Questa va andando così bene Così bene Amici avanzate Ok Ok Bella la canzone Ma subito Cosa di voi è successo dopo Sicuramente tornano Ecco perché Oh cazzo Ovviamente è beccato a me Vabbè Vabbè sono il mitragliere però Non lascia nessuno da qua Ecco il cazzo che è bello Oh Cristo Lì c'era la gente Pirloni Oh merda Io a fianco Avvisatemi Merda 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 Ok Cazzo Fringuelli però Difendetemi bene Oh Gesù Aspetta Si è andata così bene Aiuto Ok Porca Porca E dai Che cavolo sono queste grata frammentazione mie C'è qua c'è qualcuno Qualcosa da distruggere Aspetta Aspetta Vanno bene due granate No non vanno bene Mica di là Dove cazzo è che ho visto le La dinamite Porca loca Mi ricordo C'è della dinamite da qualche parte Altre granate qui Che diavolo l'ho visto La dinamite Ah quando si trova la dinamite E non ce l'hai La devo distruggere Qualcosa di cosa Non so Non so quanto danno subisca Con le granate Ok sta esplodendo Così è andato Che è andato Ah madonna Li vedo arrivano i tedeschi Ma perché ora Cos'erano dei barbagiani Cazzo Che cos'erano quelli Che sono arrivati ora Scusa Oh merda Guarda qui qua c'era Giorno E' questo Questo ma più professionale Mica Sei professionale Gli vedo il buco del culo E' grande Ti metti davanti a me Io cosa vedo Porco giù E dai Sono basta C'è ma guarda Quella sono le truppe speciali Che non subiscono Un cazzo di danno Giusto Eccolo là Dammi questo Vacca la troia Non ci provare Si ci ho provato Esploso bro Ouh De l'aide Arrivede Une traînée Dans le ciel bleu Ce pilota Sera récompensé Et nous Non Mais on le sait pas encore A ce moment là On avait juste envie De remercier Cet inconnu Et son courage Olè Laisse-le partir Petit frai Idrissa Est-ce qu'on Est-ce qu'on Est-ce qu'on a gagné Ils ont tous fui Alors sauf si Ils ont changé Les règles du jeu Wow On a gagné On a gagné C'est c'est le feu On a gagné On a gagné On les a eu On les a battu On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là Rassemblez les armes Et les munitions Idrissa Attends Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens on y va Il faut qu'on continue là Faut te reposer petit frère Tu es vivant Peut-être ils nous donneront Une médaille Mais il faudrait prendre Ces canons Pour recevoir une médaille Démé On n'a pas de commandant On ne peut pas avancer Sans soutien Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi Allons Allons les combattre J'ai une famille Des enfants Mais regardez vous On a déjà fait mieux Que les meilleurs Sortas français Alors je vous pose la question De quoi d'autre Sommes-nous capables Si on avance Et si on neutralise ces canons Les livres d'histoire Pareront de nous De la reconnaissance Du respect Pour nous Pour nos enfants Alors on va prendre ce poste Et leur montrer à tous Qui nous sommes vraiment Allons-y 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 Eh bien On peut dire qu'ils ont adoré mon discours Alors On a avancé On s'est dispersé Et déployé Pour atteindre les canons Le plus discrètement possible Sous-titrage Société Radio-Canada